musica 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 lei si diverte così? assolutamente si siamo in periodo di halloween giusto? halloween mostri, mostri, super monstery, ma condo giusto? condom? questo è un altro gioco per cellulare che mi diverto un sacco, ci perdo tipo io non l'ho ancora provato è bellissimo ci ho già giocato un sacco quindi sono già a livello 16 ma fa niente praticamente questa è la schermata dei potenziamenti che poi piano piano si sbloccano non ho voglia di non avevo voglia di resettare tutto il salvaggio gatto, che cazzo ci vuole? allora praticamente bisogna dare da mangiare a questi mostri a destra e sinistra ma che faccia assurda si sono bellissimi le idee da mangiare è quelli del colore sbagliato si incazzano però se ne metti tre dello stesso colore se ne vanno ok? è tutto basato su quei mostri giapponesi tipo Godzilla eccetera infatti la voce qua che ricorda una voce giapponese però è americana è americana oh ma non riesco a sentirsi sembra... ricorda un po' giapponese si ma forse hai visto si si ovvio è americano si ma è bello qui c'è troppo il grancho quella casetta li ho messo io la casetta sennò avrebbe una... no a me quel carlino che a parte mi fa tutto ah il carlino giallo? eh si 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 è bellissimo anche perchè... hanno pure un nome tutti però non mi ricordo più eh immagino che si chiama Octopus o qualcosa del genere Octopus è un carlino? eh si vabbè ma per modo di dire no proprio molto per modo di dire carlin boy che cazzo ne so eccolo qua il gatto praticamente il gatto serve che se fai una combo col gatto mette una... ehm... potenti il condominio di uno ovviamente quando fai una combo diventano in ordine bronze silver gold e... e diamante il gatto lo fa saltare praticamente di uno ma che gatto? poi ci sono i... che ti fanno guadagnare più soldi quel coso verde cos'è? ehm... quello? oddio è un acido devo... devo farlo fuori ok e... l'unico modo per far fuori quelli è... è fare una combo quelli... non ti sto cappendo un cazzo si è... è difficile all'inizio e poi ci prendi la mano e diventa una cosa troppo divertente poi mi... cioè mi fanno troppo schiassare soprattutto il tizio tirolese ahahah bellissimo eh... bisogna di un po' ah cazzo bisogna di un blu no sto esaurando il... ok ehm... dai dai che sto esaurando il tempo ah anche pure il tempo già che è difficile così si si è ovvio che ha tempo eh... va a tempo praticamente e se fai cadere il condominio boh non è finita e poi c'è la rulletta mostruosa tu fai girare la tipa ahahahahah il dito si ferma su... l'elemento misterioso ah affatto volevo l'elemento misterioso a me piace troppo il salto è sempre il biscotto che mi son messo io nell'immagine di profilo che cosa? ah il... il pentolone il pentolone d'oro la faccia del pentolone vuoi provare qui? ma io non... beh... vabbè ci provo dai prova, devi solamente dar da mangiare i condomini dai da mangiare i piccioni e cosa ottieni? se gli dai da mangiare quelli sbagliati si incassano però facciamo così ti do il pacifismo così le bombe e i mostri non si incassano le bombe non esplodono e ti do più tempo grazie tanto perdo perdo subito no tranquillo basta che scorri velocemente i condomini sennò accade tutto devi costruire le bombe e come cazzo si costruisce? ecco se gli dai da mangiare quelli speciali si attivano i poteri di ognuno quello rosso praticamente deromenta tutto cioè il tempo va più lento e così ti da più tempo per... oh oh quanto per le cazzate? si stai facendo tante cazzate no ma tranquillo ecco dai così tranquillo ma non ci sta capendo il pezzo? oh no vabbè a volte devi anche dargli da mangiare quelli che non gli piacciono per costruire le combo si tu guarda togli questo verde togli questo ecco ora praticamente quello lì diventano un gatto che ti facilita le cose lascia praticamente devi guardare oltre eh come se fosse sempre eh lo so ehm no aspetta ecco togli questo no 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 merda togli il giallo e il rosso wow esatto e fai due gatti alla miseria ok ciao ti roletto ehm aspetta ehm dai via quello rosso poi aspetta quello giallo sopra ok e fai il blu ehm hai fatto un altro gatto ma niente adesso potenzi tutto ma che cazzo sta succedendo ma cos'è sta roba è tipo giapponese ora sei nella zona mega non ci sono mostri tu cominci a dare via alle cose e cominci a costruire combo ma non sto costruendo un cazzo eh tipo togli quel verde togli quel verde in fondo ok e il rosso il verde in fondo il verde in fondo ok eh togli il blu ok boh non ci ho capito con un pifaro comunque ehm mangiate mangiate ok perfetto stai stai fermo ehm credi stai dando tutti quelli sbagliati eh lo so ehm ok togli il blu il blu sopra ah vabbè uguale ehm ehm devi ragionare velocemente in questo gioco ma come ma cosa che cazzo ma ah ma la 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 lascia i propri verdi oh mio ok è vero non esplodono le bombe qua togli il rosso ok oh si ehm ehm da ok mangia mangia dai tanto mancano ancora 28 secondi mangia il mangiabile no ho sbagliato per niente è bello che con il potere di quello blu non cadrà mai la torre il verde invece ti continua a mandare tipo condomini di due due condomini della stessa colore esempio dai da mangiare il gatto al blu il gatto al blu? il gatto al blu? il gatto al blu il gatto al blu e lo dai da mangiare a verde vabbè dai vai verso il blu vabbè uguale crino non c'è caduto il cazzo vabbè dai va bene ehm coso dai questo e io lo giuro al contrario non puoi dai questo questo gioco potresti vincere voglio l'elemento misterioso eeeh ma vaffanculo no gioco di merda vabbè hai hai cento monete ma chi se ne frega ce ne hai spesi mille due tu senti vichinga azteca no non è azteca hai fatto sessantasei milioni è uno stufo 211 monete ah era una valkyria si era una valkyria buon questo era supermonster ate my condo si mi sto facendo solo bestemmiare comunque un gioco abbastanza carino gratis soprattutto peccato che non c'ho wifi non hai wifi non hai wifi non funziona quella cazzata testa di cazzo eh lo so immaginavo buon vi lasciamo alla prossima puntata e vai ciao ciao